Allora farò un piccolo enzo, che enzo rappresenta la totalità dell'universo e nello stesso tempo alla vacuità intesa, non come fonte di nulla, ma fonte di tutto. Quindi l'enzo è il circolo che rappresenta tutte le forme dell'universo e allo stesso tempo la vacuità. La vacuità, quando diciamo la vacuità, non diciamo nulla, ma diciamo la source di tutto. E poi a fianco riprenderò un poema del maestro Sengai del XVIII secolo in Giappone dove dice servitele e prenda una tazza di tè. E poi scrivo un poema, che è un poema di Mastro Sengai, che è un poema del XVIII secolo. E questo poema dice, help yourself and have a cup of tea. Grazie. 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 Guardate, questo è il carattere del Sole. questo è il carattere della luna questo è il carattere della luna questo è il carattere del cuore spirito che insieme diventa Nyo Shin spirito luminoso il vostro il secondo simbolo significa Shin che significa mind, spirit so together the pre-ideograph they mean brightening mind like the one you have quindi sia il sole che la luna illuminano because the sun and the moon they are bright they give light quindi insieme diventa luminoso Nyo so together it becomes brightening shining which means Nyo Nyo Shin so I'll let the table to you so that you can make a trial come back follow me subscribe voy